Ecco la partitella della prima seduta di allenamento di questa settimana, mercoledì, 8 marzo, festa della donna, i nostri ragazzi al campo di terra battuta della vittoria di Tessè Frentano, agli ordini di mister Gabriele e di Felice si stanno allenando per prepararsi alla prossima gara di campionato in casa di lunedì con il San Buceto. Ecco, partitella in famiglia, con le casacche rosse, adesso batte Karan, Federico che ha preso la palla, lo ripasso a Filippo, a Fabio Masciarelli, Gabriele, no, Emanuele, ecco, Pitbull che ha preso prima la palla, Gabriele che ce l'ha adesso, Pitbull che riprende la palla, ecco. Abbiamo un gruppetto con la casacca rossa e l'altro gruppetto con la casacca gialla, adesso c'è Karan, Emanuele, Teidi che ha la palla, ecco, Federico che ha la palla in questo momento, una partitella in famiglia per prepararsi al meglio per la gara di lunedì, adesso ci troviamo in una fase delicata del campionato, le squadre che ambiscono a vincere il campionato ne sono tre, la Virtus Langiano che è in testa, dove c'è il Ripa Teatina, Ripa 2007, e poi ci siamo noi, la Virtus Castellentano. Tre squadre si giocano, si giocano il primo posto di questo campionato, o di andare ai 3-8. Per mister di felice Gabriele, sarebbe una grande vittoria, il primo anno che allena i giovanissimi della Virtus Castellentano, e già ci troviamo a competere per il primo posto, o quantomeno per il secondo. I presupposti ci sono, ci vuole solo un po' di determinazione, un po' di... i nostri ragazzi devono essere più chimici e razionali, sbagliare di meno e fare più gol. Ce ne mangiamo tanti durante l'incorso. Ecco Enrico che lunedì scorso ha realizzato una rete, ecco Michele pure con la Casacca Gianghe, gialla, che ha risultato una rete, dopo mezzo campionato di astinenza, abbiamo Teddy Mata, il nostro capitano, c'è anche lui lunedì scorso ha realizzato una rete, dopo abbiamo Lele che non c'è oggi, non sta bene, pure lui ha realizzato una rete, Gianluca Malbone che ha realizzato una rete, adesso si trova a 21 gol, al suo attivo. Ecco Gianluca, lo si vede, è là in fondo con la casacca gialla, ecco i nostri ragazzi, il mister Gabriele controlla che tutto va bene, sta vedendo la tenuta dei propri ragazzi. Ecco Pitbull, no, Gabriele che cade a terra, è caduto a terra. Speriamo che vada tutto bene. Ecco Enrico, ecco che passa a Luca, che passa a Nicolò, lo prende Gabriele, fischia il mister Gabriele, ha fermato il gioco, ecco pure Enrico.